I blocchi in cemento Jersey continuano ad alimentare il dibattito, non tanto sulla loro oggettiva utilità, sono in grado di ostacolare se non di impedire la corsa di furgoni e camion o di altri veicoli in aree densamente affollate dai pedoni, quanto sul cambio di alcune abitudini che viene imposto dal loro peso. Per posizionarli e per rimuoverli infatti è necessaria una gru posta su un pianale. Le transenne in ferro e quelle più moderne in materiale plastico invece possono essere sollevate e rimosse da una sola persona. Impossibile quindi prevedere rapidi spostamenti. Ne sanno qualche cosa gli automobilisti che domenica sera allo scadere dell'isola pedonale tra Piazza Croce e Piazza Castelnuovo hanno dovuto stendere tre ore prima che tutti i blocchi venissero risollevati e posti su un camion. Via Libertà è tornata transitabile alle 23 e non alle 20. Diverso il problema per Via Macheda che di fatto diventa pedonale per sempre, in attesa dei provvedimenti definitivi per la pavimentazione e gli arredi. I blocchi resteranno lì, all'incrocio con Via Cavour e a quello con Corso Vittorio Emanuele. Il Comune pensa anche di prolungare la presenza dei blocchi in cemento per Via Ruggero VII. Potrebbero infatti essere posizionati il sabato e rimossi la domenica sera, allungando l'isola pedonale. Per Via Libertà si stanno studiando soluzioni, lì la questione è più complessa. I gersi sono stati in questi giorni anche al centro di ipotesi circa il loro abbellimento. Così come sono, sanno tanto di Checkpoint Charlie, sanno di Guerra Fredda. Le ipotesi sono quelle di colorarli, abbellirli e nasconderli con altre piante. E' il prezzo che si paga alla strategia del terrore internazionale che produce anche questi piccoli cambiamenti.